Il Giro d'Italia torna a Como. È stato svelato il percorso 2020 e la carovana rosa percorrerà numerosi chilometri, quasi 100, in provincia di Como. La sorpresa, positiva oggi, durante la diretta televisiva da Milano per la presentazione della corsa. Il Lario si conferma quindi terreno di grande ciclismo dopo l'arrivo di quest'anno, di una tappa del Giro e del Lombardia, una classica monumento. Il Giro 2020, dal punto di vista della promozione turistica, forse premia ancora più la provincia di Como rispetto all'edizione di quest'anno. La tappa comasca è infatti la Morbegno Asti, in programma venerdì 29 maggio, 251 chilometri la più lunga della corsa, attraversa quasi tutta la provincia di Como nel suo punto più spettacolare, il Lago. La carovana dei ciclisti attaccherà la regina all'altezza del Ponte del Passo, a e percorrerà tutta la sponda occidentale del Lario verso sud. Domaso, Dongo, tutto l'alto Lario fino a Menaggio, poi la Tremezzina, quindi Argenio, Cernobbio e Como per proseguire in direzione sud. Il tutto nel pomeriggio di un venerdì e nell'ultima fase della corsa, quella più emozionante, dove i campioni si sfidano sulle grandi salite.